Presentazioni. Allora Penelope, sei pronta? Vieni al bar con me? Sono pronta fra un minuto. La signorina Frida è tedesca, viene da Francoforte. Molto lieto di fare la sua conoscenza. Il mio nome è Albert Ford, e questa è la mia moglie Penelope. Siamo americani, veniamo dalla California. Abitiamo non lontano da San Diego. Piacere. Sono spagnola, vengo da Barcellona. Anche voi venite dagli Stati Uniti? No, noi siamo inglesi, veniamo da Londra. Da quando stanno a Napoli? Siamo qui da sabato scorso, ripartiamo fra due o tre giorni per Londra. Siamo qui sugi, veniamo da. No, ma anche se è la mia moglie. No, ma anche se è la mia moglie. Anche voi veniete dagli Stati Uniti.